Una bellissima iniziativa, un bellissimo evento, un modo per scoprire la palla a volo innanzitutto e poi anche altri sport a partire dal tennis, atletica, piuttosto che rugby o golf quindi è un evento importante per sensibilizzare e avvicinare i grandi e i più piccoli a tutti gli sport La palla a volo per me è stata tuttora la mia vita quindi non posso che consigliarla ma non la consiglio perché l'ho vissuta io perché è uno sport di squadra, insegna tanti valori ai bimbi a stare insieme prima di tutto, ad aprirsi, a non essere chiusi perché lo sport di squadra ti insegna che la palla va passata e per fare il punto serve l'aiuto di un compagno